E' un gioco che è appena uscito, oggi è Natale, ragazzi quindi buon Natale, anche se voi probabilmente lo state vedendo domani E io lo sto registrando verso le 9 e mezza del giorno, proprio di Natale, quindi fa poco dovevo andare a mangiare così Ma oggi ho voluto portare, comprato istantaneamente appena uscito Ragazzi Heartbound, perché Heartbound? E' un gioco, comunque è Heartbound, io non so l'inglese quindi ok E' un gioco davvero bello, è un RPG, è molto 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 simile a Natale e per alcuni anche migliore E quindi adesso vediamo come si progressi, come si sosseguono tutte le vicende Ok siamo già noi, ok, ok si non me la ricordavo, ho già fatto un annetto fa la demo e adesso ci giochiamo ovviamente la cosa Oh, ci sono le ombre, che figo Sì ma sta tranquillo, vorrei... Ok ok ok, buf buf Ok, nulla mi fa, mi dice che non serve una minchia, di base Ok, mi dice che... Guarda adesso siamo pronti per affrontare la giornata Dobbiamo svegliare... ah, dobbiamo svegliare il cane Ok, andare a dormire sembra una cattiva idea Questa casa sta davvero cadendo tutto, posso accendere la luce? No, non posso accendere la luce Ehm... oh, sei a posto? Perché non sto cadendo in palla? Ehm... sei a posto? Ah, penso di sì L'accent... l'accensore della luce... Ah, non mi chiami... come si chiama quello che... l'interruttore Ehm... si è tostato Credo che tornerò nel letto Questo giorno è davvero una merda già da adesso Aspetta Quindi pensi di fare almeno colazione? Ah, dai È troppo presto per il cibo? Non è mai troppo presto per il cibo Dov'è il tuo senso dell'avventura? A dormire, come dovremmo essere anche noi Sai che non posso aprire le lattine? Oh, andiamo a prenderle È la tua colpa È colpa tua se tutto va male Praticamente, cosa è successo? Lui voleva mangiare, ma noi non potevamo Cioè, lui non può aprirsi le cose Ehm... Lui deve essere sveglio Lui Ok, forse è in un bel mood oggi Ma lui chi? Non è in un bel... Raga, l'ho visto solo io oppure c'era una cosa che è esploso Va bene Sì, ma stai tranquillo Problema risolto Non è stato così cattivo, ok? Oh, sempre ottimista Almeno... Almeno dobbiamo solamente mettere a posto le notizie Cioè, semplicemente ha detto che dobbiamo mettere a posto le notizie Ma se noi clicchiamo qua Ah, ok Ok, no, no, no È ancora... È ancora... No, pensavo che si... Che si spulesse tutto ancora Ehm... Lui si chiama Matt E il cane non ho capito come si chiama Barley, forse, sai E... Si può correre in qualche modo? Perché davvero... Ah, la luce... No, non ho voglia di accenderla Puoi accendere la tv? Oh Vabbè, dai Evitiamo di accendere la tv Mh... Mh... Ok Ehm... La lattina è sopra il... L'angolo Ehm... L'aprirei da solo ma... Sai Zampe Artigli sta... Zampe Pause Zampe Quindi devo prenderla da... Qua È pieno di... Calze Vabbè Eh... Abbiamo preso Viking Fist Brandoog Fod Cioè il... Il pugno No Fist Sì, no, è... Il cane viking Non c'ho voglia di... Non ricordo cosa voglia di Fist Oh, è il mio preferito Sì, sì, dai Ah, ok Si chiama Baron Eh... Il glorioso Viking Fist Forse Ehm... Va nella ciotola di Baron Ehm... Ha una piccola ascia Ehm... Sono dei croccantini a forma di ascia Ho sempre voluto essere un vichingo Sono così cool Sì, sono sicuro Così, andiamo Cioè... Fai veloce così ce ne andiamo Possiamo andare Ho già finito Cosa? Come mi hai fatto a finire così velocemente? Con il potere dei vichinghi! Ehm... Andiamo a finire la nostra avventura Eh, ragazzi Ho speso 10 euro e ho già finito Hai ancora... Ah, devo prendere la spazzatura Ehm... Prendiamo sta spazzatura Che vi devo dire? Pam 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 È un sacco bella la grafica, raga Vabbè, mettiamo... Buttiamo la roba Ehm... Lo hai lasciato la spazzatura? Eh, sì, raga Volevo... Ok I vichinghi hanno distrutto il mostro della spazzatura Eh, sì Sei... Saresti un... Un bellissimo vichingo Lo sai? Grazie Sei uno decente Come solo decente? Ok, un grande vichingo Ah, molto meglio Ehm... Vuoi prendere l'ascia? Perché dovrei prendere l'ascia? Sì... È meglio... È sempre meglio essere... Ehm... Pronti a bere un assalto vichingo Non voglio... Non ti dirò nulla Ehm... Io mi ricordo solamente una cosa Ehi, Laura Cosa c'è? Volevo solamente dirti una cosa Ho avuto una bellissima giornata oggi Oh, anche io Torniamo a letto, ok? Eh, suona bene La domanda è perché? Abbiamo... Abbiamo... Semplicemente sentito a mangiare Perché mi dici già che... Qua è ovviamente chiuso Potreste avere un'ascia Ma... Non è quella... Quella sorta di game C'è... C'è una... Un uovo è andata male Ok Va bene È già andato a dormire Buff, buff Che carino Guardate Che in realtà adesso È già andato a dormire Eh, vabbè, vabbè Devo andare a dormire anch'io Eh, andiamo a dormire Che ti devo dire? Eh, amico So che le cose possono andare Di merda molte volte Ma non dimenticarti di avere Di Di divertirti Anche se tutto Sembra scuro Segui sempre il tuo cuore E non renderti mai Con niente o nessuno Sarò sempre con te Vicino a te Ce la faremo Ezz La musica raga Con due è cambiata tantissimo Io l'ho abbassata tantissimo Uno per paura di copyright Due perché era alta La porta è La porta è Oh Cristo La porta Praticamente è Fatta di marmellata Ma non è Marmellata rossa Di strawberry Quindi probabilmente è sangue La luce Sì la luce Vaffanculo Eh Deve essersi distrutta Contra la notte Ma che cosa cazzo Questa potrebbe aver di fatto Tutto questo Viamo giù Io me la ricordavo Sta scena però Non me la ricordavo Così crudele Cioè ha lanciato via tutto Non c'è nulla Ancora È ancora pieno Non c'è nemmeno il sapone Wow E non c'è nemmeno Cioè non posso Una bellissima Un bellissimo scaffale Orizzontale Ma un bellissimo scaffale Minchia L'immortacci tua Cosa hai fatto Ah mi sa che dovrò andare di là Ehm Lascia averla presa io Wow Cosa Cristo è successo Il collare di Baron Dovrebbe essere vicino Non ti preoccupare amico Sono sull'autostrada Oddio Posso salvare vero Raga sono lento come la merda Aspettate un attimo Ehm Ok Ok Ezza libro C'è un libro Sulla nostra cosa Ogni pagina Ehm Cioè E' tipo sporca Con L'inchiostro Ehm Ah ok E' il modo per salvare Ok 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 Dovevamo salvare La tempesta sta continuando a peggiorare Andare al Tornare a letto Sarebbe una buona idea Rest for a while Dormi per un po' Sì Cosa succede se dormo C'ho un'ascia C'ho l'ascia Il collare di Baron La roba di Baron Ho tutte le robe di Baron Posso accendere la luce Ok non esplode nulla Poi se vado fuori Ok torno lì Ok va bene Realmente Cioè dormi Per recuperarti la vita Oh c'è una nota Possiamo Possiamo fixarlo Cos'è che storia Questa sonora Mi sta venendo un infarto Ehm No ok 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 Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho un puzzle Ok quindi adesso ci sono anche i puzzle Non mi piacciono Questi Questo genere di suoni Sai Eh aspetta un attimo Sì 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 Lo so che sono forte I puzzle Ma ehi Ragazzi saranno video Lunghi e non tagliati Quindi L'immortacci tua Cosa È solamente un sogno Non è reale Eh raga mi dispiace Ma non sarà l'alinese Lassami da solo Ehm Non sarà l'alinese Non sei reale Baron sta bene È solo un sogno Svegliati 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 Ok lui non crede Io sono in una battaglia Cosa Cristo devo fare Ah ok 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 Ho capito Ho capito Ho capito Ok Quindi Così Raga non funziona Ah Poi devo muovermi La Mao Ok ho capito Come funziona Ho capito come funziona Va bene Va bene va bene Va bene Ok Uno due tre Cosa Ok 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 Sono un po' confuso Dov'è lui Ok ok quindi Ok il combat system È abbastanza strano Se permettete Ok Però è un sacco figo Ve lo dico È un sacco figo Quindi No ancora tu Uno due Tre Quattro Vabbè Una cagata Tre quattro Ah Sono fortissimo Adesso devo No Ho visto dopo la roba Sulla zampa Ah Fuck Questa è la prima battaglia Ho paura di vedere le prossime Le sto già perdendo Ok No Ok bravissimo Mica quanto sei lungo Però aspetta un attimo Ah Dovevo guardare Adesso Ok va bene Scusa Ridammelo Zna 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 Come lo schifo questo È abbastanza Cosa Che Cristo sei tu Ma Mi fate capire una parola No Una Stiamo tutti tranquilli Ragazzi Stiamo tutti tranquilli Non arrenderti Puoi batterlo Tempo di svegliarti Quindi era un sogno Pena minchia C'era un'altra parte prima Nella demo L'hanno tagliata probabilmente A casa alla fine Dove sono? Cos'è questo? Dov'è Baron? Sei al sicuro Nella mia libreria Puoi Spiegarmi Chi è Baron? Il mio cane È più di quello Baron è il mio miglior amico Ah capisco Sono preoccupato Sono dispiaciuto Di dirti che le cose Sono più complicate Di quanto vorresti Che lo fossero Cosa intendi? Dov'è lui? In un posto Tra Dopo questo mondo Posso aiutare Ma non sarà Facile per nessuno dei due Dimmi solo dov'è Per favore calmati Non sono il tuo nemico Oh scusa Nulla di tutto questo Ha davvero senso Non volevo Praticamente non volevo Comprarti le palle Va bene Non ti preoccupare Allora La vita a volte Non ha Non ha senso Dobbiamo sempre Farcelo con quello che abbiamo Cosa? Come fai a sapere il mio nome? Te lo dirò Quando sarai più grande Guarda che secondo me Questo muore Ci dirà come abbiamo Come abbiamo Come lo sapevo Il nostro nome Ma per me Puoi chiamarmi Binder? Cosa? Il tuo nome è Binder? Sì Cioè Siete libero Di guardare in giro Io Setterò il time Che cazzo? Guardi Ok I guardiani I guardiani Possono muoversi Tra le pagine E Annotare tutti gli eventi Il pavimento Tutto Cioè Il Il fiume di informazioni Porta Potere E potrebbe Potrebbe Sorpassarti È un sacco strano Qua c'è un Ah qua c'è un coso per salvare Ok sì sì Possiamo String the symbol Ok Record the journey Sì Ok quindi possiamo anche Dormire Se non Dai Dormiamo Vediamo se è cambiata la stanza Quindi la stanza È quando dormiamo Cioè la stanza È Di realtà non so Cosa serve la stanza Ancora Non devi Non devi Striccharti un'altra volta Mmm Una piccola Pilla di Libri Semplicemente Mmm 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 Oh vedo che Hai trovato Agna Il suo I suoi Vai Sono Sono Peggio dei suoi Morsi Posso dire Posso assicurartelo Ok Ah sì Credo Credo che non serva Vedere tutte queste cose Sinceramente Quindi Stavo anche un po' Schifando Perché questo 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 È il tempo Ehm Ricerche Ricerche Suscritti Sui fogli Di carta Ehm Sono Focussate Sulla Riproduzione Dei Bastoncini Cosa Sono un po' Confuso Non sei molto Non sei il tipo Curioso Va bene comunque Il L'olorogio È È pronto per te Sfortunatamente Dovrai Prendere questa strada Da solo Trial O l'olorogio Di cosa stai parlando Ehm Per salvare Baron Potresti Andare Dovresti andare Da qualche parte Dove io non posso andare C'è un artefatto Intrappato da questi Between Cioè Ah In mezzo a Mondi Questo Questo l'orogio Ti porterà in quel posto Puoi Può davvero portare Baron Di nuovo da me Lo spero È l'unica È la migliore Chance che abbiamo Capisco Stai indietro Te lo aprirò Mi aprirò L'orogio La connessione è stata stabilita Per favore Vaci dentro Ehi Vinder Sì Lord Grazie Non pensarci Avresti fatto la stessa cosa per me Cosa vuol dire Avresti fatto la stessa cosa per me Non lo manco Io ho una paura Voglia di come Evolverà questo gioco Raga Secondo me io morirò dentro Spero che funzioni Io davvero C'ho Caga che Da adesso in po Ok Ok hanno invertito L'ordine degli eventi Prima era al contrario Questo posto sta Sta cadendo Spero che Vinder stia Andando bene Comunque Cioè questo tipo qua Non Non si fa domande Cioè nel senso Ti hanno Ti hanno appena Del trasportato con un l'orogio E tu non ti fai questo tipo di domande Cioè All'affanculo Chi se ne frega Come funziona Questo puzzle Ah ok Va bene Quindi devo Devo in qualche modo Fare qualcosa Credo Perché altrimenti Non comprendo Cosa Ah ok Va bene È un puzzle Che finché ci potevo Anche arrivare Ah ok 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 Ho capito È una cagata Aspetta però mi sa che Con la luce Dai ti prego dimmi che c'è un modo per correre Non l'ho visto Ti prego perché davvero Mi sto tagliando le vene Ok Adesso si può fare Raga era un puzzle Stupido Ma io non sono riuscito a farlo Nemmeno Ok Quindi è un gioco puzzle Fantastico Oh mi puoi sentire Ok Great job Fammi sapere se hai bisogno di Di una mano Per Let me just ask for For the performance Dice Dice Val piano Farmi chiedere aiuto A voce bassa Quando Quando tu sei dall'altra dimensione Di base Ok Questo porta di là E questo porta di là No Non questo Ma questo E allora questo qui È dall'altro lato Ok va bene Va bene Quindi di base Questi puzzle servono solamente a Tracciare da Spina a spina Questa è l'ultima È l'ultimo coso La prossima Stanza C'ha l'artifatto Ok Cercherò di non essere laserato Nello spazio E altre cose Pieno di qualità Quindi un attimo Vediamo un pochettino Come funziona Prima cosa spegniamo Possiamo spegnere Caputta Stai tranquillo Ok no Capito come funziona Devo prima cosa Spegnere qua Poi portare questo qua All'altro lato Sì così E poi attivare entrambi Un No Non funziona così evidentemente Pensavo Oh Uffo Non avevo visto questi Giriamo qua Allora E facciamo Ragazzi Comunque la roba che non c'è il mouse Mi sta destabilizzando mentalmente Sappiatelo Se sono stra confuso Ok Quindi abbiamo fatto tutto Ok Questo senza l'artifatto Raga Io non avevo pali d'idea di cosa Cristo sia Sei quasi qua Sei quasi là L'artifatto è davanti a te Stai attento Loro Raga ho paura di un boss È un libro Cosa? Qualcosa Qualcosa Ah non va bene Vinda cosa sta succedendo Lo so no Lo so ora Loro vai via Qualcosa sta andando storto Sono Dai ma non lo fammi leggere Abbiamo bisogno di salvarlo Sta glitchando Raga Sta glitchando Raga Cosa sta succedendo Ehi Mi scusi sir Ero come te Una volta Pieno di speranza Ambizioni Curiosità Paure E ora sono qui Interpolato Prigione Aspettando Te Fammi capire Fammi vedere Perché ho scelto te Mostrami Che tu vali Svegliati Loro Svegliati E prova E prova te stesso Ma chi minchia sei Mi stai simpatico Ma stai Stai calmo Baron Baron Perché avevo l'impressione Non puoi andartene Questa volta Fantastico Già non vedo una minchia La musica si è spenta Io ho una caga pazzesca Se c'è un or Un salto Un cosor Non era quello che volevo Non in questo modo Minchia Sto Davvero Non tornerai indietro Ma che figlio di puttana No Dai non posso arrivarci No si mi sa che ci posso arrivare Hai Hai trovato una 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 calza Tu lo hai fatto È bello Sapere cosa tu hai fatto Sapere che tipo di persona tu sei Ma che minchia ho fatto Tutto andrà A finire bene Continua a muoverti No raga Io non Non avete capito Mi sto cagando sotto Il collare Non c'eri per lui E ora è andato Ma sarai Stronzo in culo Scusatemi Poverino Io sarei C'era scappato a piangere Sì raga Però mi sono perso C'è Davvero mi sono perso Lo hai lasciato C'è l'hai L'hai lasciato È colpa tua Ma che minchia Vo' hai sto vo' C'è Ma perché C'è sopra qualcosa Sembra Sei Hai finito già il sangue Cosa stai aspettando Ma che cazzo Stati Oh Non arrenderti Non ora Non ora Non ancora Quindi vai Ma vai dove? Guarda Dove la speranza Ti porterà E vediamo dove la speranza Mi porta Puoi sentirlo Farei una battuta Che è in questo momento Però Non mi sembra il caso Ti sta guardando Grazie mille Grazie ma No pedofili Vi prego No no grazie Non mi piacciono i pedofili E Va bene comunque Però cioè No Non puoi combatterlo E se invece potessi Stronzo Salviamo No no Sì che vuoi salvare Che cazzo vuoi? Proviamo a sbagliarci? No L'or non c'è Però ho preso questo coso Vabbè ho preso questo coso Quello che prima non c'era E la calza In basso a sinistra E quindi? Ora ma vuoi cosa Aspetta voglio vedere una roba? Voi state vedendo No è nero Quindi funziona bene Ehm Pfff Ok Non posso Non posso andare di qua? Va bene fantastico Non posso andare di qua? Non posso andare ragazzi Che Cristo Ah qua di qua di qua di qua Non sei pronto Non sei pronto E scusa Che ti devo dire Amico mio Sai tu che mi stai facendo portare qua? La storia finisce qui Ce ne è abbastanza Tutto quello che dici È una menzogna Non mi interessa Non mi interessa di te O qualsiasi cosa qua Io voglio solamente che Baron torni a casa Lasciami andare via con lui Buona fortuna Ragazzo Ne avrei bisogno Perché ha lanciato il libro? Io lo volevo il libro Oh e tu Non mi interessa cosa sei Vai via No io Mi sono ricordato una cosa bruttissima Dalla demo ragazzi Mi sono ricordato una cosa bruttissima Dalla demo Ok Io non so se ci sono finali alternativi Come in Undertale ragazzi Io non ne sono a conoscenza Sinceramente Quindi Sperrò di Spero di fare Il migliore delle cose Cioè La La scelta più corretta di tutte Perché io non voglio Io nei videogiochi dove posso non uccidere Io non uccido Ma Mi sa che questa volta Dovremo proprio farlo Purtroppo Non abbiamo scelta Altrimenti non usciamo da questo posto infernale Ah vabbè La boss fight è abbastanza semplice Tutto Molti punti di vista Perché tanto è È metodica Quindi sto a posto Fatemi Stop Dovremo Devi smettere di parlare E combattere Che palle Non dovevo giocare alla demo Ragazzi Non dovevo giocare alla demo Uno Due Tre Quattro Pam 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 No è semplice Ragazzi Ho pensato molto peggio Cioè prima la volo Praticamente ho perso Tutto perché Non avevo capito come funzionava la fight Però adesso che ho capito è una cagata Ok Ok Taralala Taralala Dan 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 Uno Due Tre Quattro Cinque Oh Cristo Ragazzi E nei giochi di memoria Faccio davvero schifo Sappiatelo Snafna Devi smettere di parlare Lomao Disse Gesù Tranquillo Teloce Stavolta Due Due Tre Quattro Cinque Se Ma quando me ne lanciano Vabbè me ne lancia un sacco Comunque no raga È un sacco strano Questo gioco Cioè anche il combat system Adesso questo qui È abbastanza carino Se devo ammettere Ok Pensavo Mi stavo grettando la zona Ho pensato Oh Cristo Adesso devo fare qualcosa che non Ok Wow Wow Don't give Up Keep Questo credo sia un keep fighting Cosa Stop fighting Era uno stop fighting Era uno stop fighting Raga Al massimo Santo salvo Ho salvato prima no Lo rifacciamo Non è un problema Prendiamo una caso E C'è scritto di perdere Praticamente Svegliati Non abbiamo tutta la giornata C'è una bambola Raga c'è una bambola In basso a destra Non so come sia successo Raga ma io Io ho fatto quello che c'era scritto Di fare Guarda Don't give Him Keep fighting Probabilmente Quindi continuo a combattere Quindi continuo a combattere Non don't fight him Sono ritardato Eh ma perché Perché c'erano le cose Cosate Lì Non potevo fare Quindi devo continuare a combattere Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Caputtana io la memoria A volte L'unica L'unica via per andare avanti È in mezzo Lo capirai E se non attaccassi L'ho attaccato Ma in un altro modo Ehi amico Lo so che stai male In questo momento Ma Ma fidati di me Quando dico che andrà tutto bene Lo puoi battere E io spero Che Questo sia un altro passo Che farei ogni giorno Potrebbe Sembrare brutto Ma non ti arrendere Io credo in te Baron Non può succedere davvero Non lasciarmi da solo Non dopo tutto questo Oh Che scena toccante Ti sto interrompendo No 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 Per favore lasciaci da soli Io voglio Voglio Vogliamo solo tornare a casa Se l'hai meritato Entrambi Cosa Cristo Io non te lo farò fare Non ti farò Non ti farò Ferire il mio amico Non ti farò Non ti farò Far male Nessuno Cosa in aramaico Non puoi fermarmi Non ancora Il cannes Barons è diviso in tre Non posso andare in questa zona Ah devo scegliere la zona in cui andare Devo dire che in realtà Mi ispiravano molto di più queste Però Vabbè Che vi devo dire Andiamo in questa Wow Era wow Io l'avevo già visto Questa cosa Ma È davvero Distruttiva Cioè Davvero Tanto Non me lo aspettavo Perché c'è questo nome Anche nei suoi ultimi momenti Sei stato Sei stato Troppo debole Ma non ti preoccupare Finire tutto presto Ma lasciami stare Oh che cosa Oh Niente Penso Questo è Lascialo andare Io non sto capendo una minchia Cos'è questa cosa? Cosa stai facendo? No Fermati Non puoi farlo Un cuore Il simolo Questo è il simolo del gioco Heartbound Legami di cuore Ci siamo legati Sono confuso come non so che cosa eh Dove Dove sono? Baron Sei qui? Posso muovermi? Sì Eh Raga controllo un attimo in giro Perché ho paura Cioè Eh Lizard people Persone Oh scusa C'è un piccolo Keypad Oh c'è un Mi sa che devo Prendere una password Sapete raga C'è un mod Tipo c'è un easter egg O qualcosa Comunque Lizard vuol dire Lucertola Persone lucertola Ok raga Ammetto Di essere andato un attimo a vederlo Ma perché C'è un problema Di traduzione Io ovviamente che Non sono inglese Non sono amante di lingua Non avevo capito Cosa bisogna Di cosa bisogna fare Il problema è che Lui ha inteso Scusate Lui ha inteso Il seven once Come cliccare Sette volte uno Io invece l'avevo inteso Come Fai una somma di tutto Quindi uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Mi dispiace ragazzi Ma Ma è pure sbagliato Ah ok Vedete che diventa tutto Bianco e nero Ragazzi Infatti Mi dispiace Che ho visto online Però ragazzi Davvero Non ho Storilato nient'altro Perché guardo solamente Questa risoluzione qua Ma Una musica Che è un po' bella E tu che sei? E Lore Papà Non può essere qui Papà Baron sta male Non posso lasciarglielo fare Non posso lasciare che lei ti trovi Cosa stai facendo? Fermati ho bisogno Hai Tu devi andartene ora Aspetta Ho detto vai Ma che Che problemi ho in famiglia? Baron che minchia No 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 Non andrà a finire bene Non andrà a finire bene No Non può essere reale Non posso essere tornato qui Un'altra volta No dai Un'altra volta Oh oh Ciao cane Cane Figlio di puttana No non il cane ovviamente È questo tipo qui Che tanto ormai Ho capito che Ci ero per tutto il tempo Quindi Sto registrando da un'ora ormai Volevo semplicemente Andare al prossimo Sto abattaggio E finire la rec Ma Sai com'è? Cosa ho deciso che Allora Tu devo andare lì? Ok E come ci arrivo lì? No Codo No 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 Volevo prendere anche l'ultimo io Tutte le volte che va Che sta andando male È sempre colpa tua Lasciati da soli Ok Forse forse è meglio Che risolvere il puzzle Prima Non posso risolvere il puzzle Raga E invece Sì che posso Ok Ho risolto il puzzle Cioè l'accesa luci È questa la tua strada In che senso? In che senso? Wow 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 Quindi Non so come andrà a finire Qua non va Questa è la strada? No Raga Io Io illumino tutte e due E scelgo che questa è la mia strada La scelta è stata fatta Molta indecisione Che Che errore Senza senso Destinato al nulla È sparito Un attimo Non mi fate respirare Raga Cosa? Dove sono? Ragazzi Dopo un'ora di rec Io direi che posso anche finire qui il primo episodio Se vi è piaciuto Io registro subito il secondo E ci vediamo Nel prossimo video Allora Ciao Ciao Facciamo